Cos'è la faccia di Yakuza? Hoè! Atashi! Omega! Kiryu Kazuba! Ok. Hai visto la foto che ho mandato stamattina? Dani? Mi è arrivato un gazebo, mi è arrivato un gazebo dentro casa, tanto per rendere l'idea. Un gazebone dentro casa. Non il gabrone, eh, un gazebone, non il gabrone, non ho il gabrone dentro casa. Un gazebo, come? Rapina 5000. Anch'io, io faccio, ci abbiamo cantato Bakamitai, Andre. Abbiamo cantato, suonato più che altro, l'ho preso 89 su 100 con Bakamitai. Bella, bella quella canzone. Ah, oh, oh, senti... Ya! Ya! Eta? Sì, a te. No, voglio... Andiamo, andiamo di sfondamento. Por, 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 por. Ya! Eccolo qua. Scusatemi, bo, basta. Vi lascio in pace, signorine, scusatemi. Scusatemi. Sorry. Sorry. Real sorry. Ok. Oh, ma... Ok. Il taxi costa 470, vuoi andare? Era divertente il suono, lo so per quello. Dojima Family Headquarters. Ok. Guardate, che... No! Che mi denunciano! No, non è vero, sto scherzando. Hai delle spalle da sito arancione? Eh, beh... Aspetta, aspetta. Mettimi la musica. Mettimi la musica, Coin. Mettimi sito arancione. Mettimi sito arancione. Gorilla, capitano Akagi, da oggi capitano Jack. Eh, beh... Beh, bella situazione. Vai, dai. Vai, Coin. Vai, vai, vai. Ecco qua. Divertente, eh. Non si vede molto le spalle, però... Ok. Le spalle... Le spalle da palestrato. Non ho mai avuto... Guarda, sono andato in palestra... E tipo... Quando andavo in palestra facevo gli attrezzi. Si allenavano gli attrecci. Eh... Ciao, sono Jack. Ciao, sono Jack. Ho cambiato faccia. Ciao, sono Jack, Jack, Jack. Sono Jack, Jack, Jack. Sono Jack. Jack, 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 Jack. Jack, Jack, Jack. Sono strano Jack. L'abbiamo fatta, ragazzi. L'abbiamo fatta. Il gatto è contento, eh. Il gatto è contento. Ma appena ha graffiato. Ma ha fatto bene. Ripeto, ha fatto bene. Facendo una cosa strana. Ma il nostro Rookie terminerà presto la sua striscia vincente. La prossima battaglia affronterà la leggenda. Vampeta? Vampeta? Siamo conto a Vampeta? Oddio, è Vampeta! È veramente Vampeta. È lui. È immune dalla legge. È Dead Punch. Si assomiglia, eh. Si assomiglia. Vampeta. Ma è lui, grande. Ma è un grande. È lui. È proprio lui, eh. È anche il Rookie in rosso. Pronto. Salve. Chi è? Sì. Salve. Sono io. Piacere di conoscerla. Mi dica, mi dica. Viva. Ah, c'è che metto in via voce. Nooo. Era bellissimo. Nooo. Mi ha detto. Mi ha detto viva Vampeta. Mi ha detto viva Vampeta. Aveva un vocione profondo. Aveva un vocione incredibile. Io lo devo farvelo sentire. Al prossimo che mi chiama. Io lo metto in via voce. Nani? Nani? Haha. Cosa vuole da me? Io non voglio essere accusato sempre. Ma cosa possiamo fare con Pitagina? Credo che vende funghi allucinogi. Lì avrei creato la bestemmia. La mascotte. La Ten Solo. Non so cosa. Voi votatemi cos'è la risposta più giusta. Ricordate in via voce. Voi votatemi. Ditemi qual'è la risposta ideale. Salve. Mi dica. Grazie a zio Procione. Grazie. Grazie. Bella Joy. Non so pure mia nonna sta roba. Sapeva. Ma non era viva. Mi licenzio. Mi licenzio. Ma magari. Senti Coin che fa. Vediamo Coin. Coin fa le mosse di Crash Bandico. Le mosse di Crash. Le mosse di Crash. Quando è tutto contento che ha spreso la gemma. Oh. Dove hai mettere la musicata di Crash? Insegnante di grammatica. Pensa a te. Pensa a veramente Seba. Domani si trova. Domani si trova. Seba in classe. Con tizio insegnante. Che gli dice. Bene. Oggi interroghiamo. Interroghiamo a caso. Sebastiano. E lui dice. No. Arrivato tizio. Che emozione. Chi si ricorda. Iai Bazzi. Spin off di Ninja Gaiden. Ma sai che sto gioco c'è. C'è fra i giochi. Italy. Italia. Ohio. Itomin. What do you mean? I don't speak Nihonjin. But I really like it. I really like Japan. I love Japan. I love Japan. I love Nihon. Un applauso incredibile. Che poi in realtà. Vi dico la verità. Quando tutti applaudono. Vi faccio vedere. Un piccolo segreto ragazzi. Voi. Volete fare l'applauso più fragoroso? Volete fare l'applauso più fragoroso? Tutti fanno così. O così. Tipo le chop. Come nel wrestling che danno la chop. L'applauso più fragoroso? Voi dita. Sentite che applauso. Ricordiamo. Signor Red. Il signor Red. Solo parti originali. Solo parti originali. Occhi d'occhi. Mi fa copyright strikeare con queste musiche professionali. Ma che cos'è sta voce? Cos'era sta cosa? Sembra Squid Game ragazzi. Sembra Squid Game. Ragazzi non ce l'avrei mai fatta. Silver Plate. Eh beh. Queste. Le possiamo vendere. Mi sembra che devo vendere dai Bisu. Quello in basso. Ma adesso lasciamo perdere. Adesso andiamo avanti con la trama. Promesso. Promesso. Ha ha. Ha ha. Quello è Vince che ride. Quello è il nostro Vince. Il grande tizio che dice. Ha ha. Io rido. Ha ha. Lo dice sempre Vince. Adesso. Adesso mi trasforma. Il Super Saiyan. Veramente. Adesso. Il signore. Ma questo non è il chiamato anonima. Pronto. Ciao. Chi è? Vedo il nome.